Non solo bello il cibo, ma anche buono. Questa è la filosofia del visual food, un nuovo modo di concepire il cibo e l'allestimento dei piatti. La visual food Angela Loccisano ha presentato sabato pomeriggio 30 maggio alla libreria Mondadori di Siderno questa nuova disciplina decorativa. La bellezza ora sposa la funzione del cibo, racconta la Loccisano, che dice C'è un'attenzione particolare alla presentazione del cibo, attenta comunque all'etica del non spreco. È una disciplina facile che tutti possono praticare, rassicura la tutor, semplice nei materiali e nelle tecniche, capace di unire il cibo e il design. Io sono Angela Loccisano, sono una visual food designer e anche visual foodist. In pratica lavoro con Rita Loccisano, che è la mia presidente, nella progettazione e nella realizzazione di tutti i piatti e delle creazioni visual food. Allora, il visual food, a differenza delle altre discipline, è una disciplina decorativa. Tutto ciò che viene creato da noi non viene solo esposto per la bellezza, ma deve essere completamente mangiato. Tutto quello che creiamo deve essere completamente mangiato. Quindi, bello da vedere e anche buono da mangiare. La bellezza sposa la funzione del cibo. Allora, questa sera facciamo una piccola demo e in più facciamo vedere tante creazioni, una parte delle tante creazioni visual food. Ogni creazione ha un tema, che può essere i bouquet di frutta, i bouquet salati, le decorazioni del piatto, i piatti anche per bambini. Insomma, è una scelta ampia di creazioni.